Che ancora una volta dicono una bugia, dopo aver promesso con un patto tra finti gentiluomini di ritirare l'emendamento Marcucci a fronte del ritiro dei miei 4005, adesso si attaccano sugli specchi e si sente il rumore. Noi diciamo semplicemente una cosa, che gli emendamenti che sono rimasti sono emendamenti soppressivi, che è una cosa diversa rispetto al canguro. L'emendamento soppressivo è un emendamento che serve per affossare la legge, perché noi l'abbiamo detto molto chiaramente che secondo noi questa legge è da ritirare e di conseguenza io non cerco di sostituire qualcosa, cerco di eliminarlo. Io chiedo di eliminare degli articoli. Non sono canguri, è un strumento parlamentare come c'è sempre stato, in passato su altri provvedimenti erano stati presentati degli emendamenti soppressivi e mai si è detto che quegli emendamenti erano dei canguri.